Benvenuti a tutti, stiamo preparando la diretta, quindi adesso vedete solamente lo schermo fisso e dall'altra parte, dalla parte inglese, stanno preparando tutta la parte tecnica e tra poi iniziamo. Intanto io sono Leonardo Luca, vi do il benvenuto, sono il traduttore in questa occasione, avremo questo splendido appuntamento con Peggy e per chi non la conoscesse, Peggy fa parte dell'Entourage di Kryon, la prima appartenente all'Entourage di Kryon che ha viaggiato internazionalmente con Lee Carroll e con Kryon e abbiamo la possibilità di lavorare con lei, ormai da tanti anni online e porta un tipo di lavoro molto speciale, molto profondo, con il reticolo di calibrazione universale che è una parte della nostra anatomia energetica. Una cosa che volevo anche menzionare è che trovate tante informazioni su di lei sul sito ma anche sul canale YouTube e quindi avrete molte altre video da poter vedere. Durante la diretta, se per qualche motivo la mia voce o la voce inglese fosse non bilanciata, ecco, scrivetemi in chat in modo tale che io posso cambiare i volumi e posso far sì che tutto poi si senta meglio alla fine. Quindi tra qualche secondo siamo pronti. Intanto vedo che dalla parte inglese stanno iniziando, adesso da un pochettino vi passerò. Ok. Intanto ci tengo a salutarvi, ricordate che questa è una presentazione di un lavoro che se volete poi approfondire troverete il link in basso in descrizione per partecipare alla serie di eventi con Peggy che vi permetterà di apprendere questo. Benvenuti al nostro bellissimo evento. Vediamo chi c'è online. Ecco che vado a guardare adesso dove sono tutte le persone collegate. Peggy in questo momento sta controllando le persone connesse con lo Zoom in inglese. Quindi stanno facendo alcuni aggiustamenti sulla chat. Nel frattempo anche noi possiamo organizzarci qui. Ricordo che se avete bisogno di un'indicazione sui volumi, scrivetemi nella chat. Mi piace moltissimo vedere la chat, vedere i vostri visi, soprattutto ecco anche oggi che abbiamo tante persone nuove collegate. Siamo in un tempo di evoluzione molto importante. Vedo l'ora di potervi parlare dell'aiuto che viene a noi tutti dagli Enion. E anche oggi avremo un'esperienza energetica. Sarà un'esperienza breve. Saranno tre disegni energetici che sperimenteremo con gli Enion. Innanzitutto voglio iniziare con il GATITUDINE. Ci sono tante persone che si sono iscritte, che hanno detto sì, io sono un pioniere e voglio conoscere di più. E grazie di essere qui, grazie a voi che siete qui in questo momento presente, oppure un altro momento presente, lo dico sempre questo. E' davvero, sono molto felice che voi siate qui. E potremmo conoscere di più a proposito di queste particelle che si chiamano Enion. E penso che tutto il mondo vorrà sempre saperne di più a proposito. Così come in passato il famoso esperimento della doppia fenditura ci ha fatto capire come dove portiamo le energie e noi creiamo un effetto, anche questo. E quindi ecco, il fatto della consapevolezza ha un effetto. E anche, ci sono ancora discussioni a proposito di che tipo di effetto si ha, ma comunque se ne parla, cioè l'effetto della coscienza, dell'osservatore sulla realtà. E ci sono esperimenti che avvengono in tutto il mondo a proposito di questo. E quel esperimento fu importante e così anche la scoperta degli Enion. E comunque adesso la vostra presenza è importante. Chi mi conosce sa cosa sto per dire. Noi siamo qui per essere fianco a fianco e incoraggiarci per essere più forti e luminosi che possiamo. E ho un speciale senso di gratitudine per Barbara, ragazze che sei qui e stai traducendo, nella voce spagnola. E anche Graziella e Paola che sono qui in aiuto, nella chat, per tutto quello che serve nella traduzione all'interno della chat. Anche uno speciale ringraziamento a Bernie che è presente qui e sta traducendo per la comunità ungherese. E anche Luca è presente qui e sta traducendo per la comunità italiana. E adesso conosco molto di più di voi dopo l'evento di Roma e questo è bellissimo. E poi c'è Gustavo che tradurrà per la comunità portoghese e lo farà in un tempo successivo. Eccoci qui. Sono diverse cose che voglio condividere con voi oggi. In tutti questi anni noi stiamo scegliendo di comprendere di più cosa significa essere gli evoluzionari che noi siamo. Stiamo sempre più imparando a proposito della co-creazione creativa. Noi passiamo dal caos creativo alla coerenza, dal caos creativo alla coerenza. E io sono convinto che diventeremo sempre più capaci e maestri nel fare questo. E quando cambiamo la nostra percezione, noi cambiamo la nostra realtà. E noi abbiamo compreso che quindi quando diamo attenzione a qualcosa, noi diamo energia a questa cosa. E io mi ricordo che trent'anni fa iniziai a insegnare e dicevo che l'emozione è energia in movimento ed effettivamente è così. Sì, sì, lo sono. Adesso faremo delle cose, ma nel frattempo voglio ascoltare e sentire come siamo in questo momento a livello energetico. Noi stiamo tutti evolvendo. Qualcuno sta sorridendo di più degli altri, ma certamente tutti siamo in evoluzione. E si sta mostrando la vostra forza. E so che il mondo ci sta mostrando tante, diverse frequenze adesso. Ah, posso vedere i vostri nomi adesso. Grazie. Adesso posso vedere tutti i vostri nomi. Grazie. Grazie. Oh, amo tutti gli abbracci che mi inviate. Grazie tante. Grazie. Noi facciamo questo insieme. Di solito quando facciamo le attivazioni ho la possibilità di vedervi il viso, vedere la telecamera, ma in questo momento per oggi voglio concentrarmi su quello che facciamo oggi. E mi piace però vedere i vostri nomi. Adesso abbiamo delle slide, poi vi parleremo un po' e poi abbiamo un'attivazione. Ecco, vi annuncio che le slide non sono state tradotte in italiano, io le leggerò. Per chi sarà interessato, poi le slide arriveranno successivamente in italiano. Adesso iniziamo con le slide. Attendiamo con fiducia che appaiono. E sapete, questo è il mio mudra che preferisco. Abbiamo questo, abbiamo anche questo. Guardate incrociate. E qualcuno di voi potrebbe già conoscere queste slide, ma è importante che noi continuiamo a andare avanti e continuiamo a conoscere di più gli anni. La prima frase, la coscienza umana è sempre in evoluzione. Ci sono tante discussioni che riguardano la coscienza umana, ad esempio dove è, come funziona. E per noi la nostra coscienza è in ogni cellula del nostro corpo, ogni fibra di luce del nostro essere, ogni strato del nostro DNA. Ho giusto visto che è presente mia sorella qui. Siamo tutti i fratelli e i fratelli, ma siamo tutti i fratelli e i fratelli, ma ecco, ho visto proprio mia sorella che è presente oggi online. È bellissimo vedere chi è connesso e vedere i vostri nomi. E vedo che ci sono tante nuove persone che stanno seguendo questo webinar proprio per imparare sugli Anion. E oggi faremo una calibrazione, lavoreremo con tre disegni energetici. E voglio solo ricordarvi che tutto questo è nato dalla mia esperienza dell'amore infinito. L'infinito è cronale, né inizio né fine. E continuiamo a sintonizzarci gli uni con gli altri. Mettete le mani sul vostro cuore. E insieme affermiamo nella frequenza dell'amore infinito. Io sono vivo, io sono elettrico, io sono trasformativo. Ricordate, state dicendo sì a voi stessi. State evolvendo in accordo con la vostra saggezza interiore. Continuerò a generare delle frequenze specifiche. E voi risponderete in accordo alla vostra verità. E amo il modo in cui funziona. Andiamo alla prossima slide. Non voglio adesso prendere troppo tempo su questo, perché potete imparare molto di più se andate sul mio sito web. Questo è il vostro reticolo di calibrazione universale, il vostro toroide della coscienza. Tanto tempo fa mi sono svegliata, ho preso consapevolezza di questa parte della nostra anatomia energetica. E questo ci permette di sentirci a casa, sentirci al nostro agio, ovunque noi siamo. Questo sistema all'interno della nostra anatomia energetica è costituita da figure a forma di otto che si irradiano energeticamente ai nostri chakra. Sono fibre di luce che sono parte del nostro toroide di coscienza. E' una struttura energetica che porta tanta libertà. E poi vi dà supporto, vi permette di canalizzare di più chi voi siete. Molte informazioni, tante energie, rimanendo in un modo d'essere organizzato, coerente. E questo è soprattutto importante in questo momento che viviamo questi cambiamenti. E più coerenza c'è, meglio è per voi, nella vostra stessa realtà, ma anche collettivamente per tutti quanti. Andiamo alla prossima slide. La vostra presenza è davvero preziosa. Siete stati d'accordo per essere qui adesso. E di nuovo, più è coerente il vostro campo, meglio è. Questa è un'altra immagine di chi voi siete. Andiamo alla prossima slide. Questa è un'immagine che rappresenta gli enyon, è un'immagine artistica che rappresenta queste particelle. Ho una storia su questo, è un video che ho messo sul mio sito web, si chiama L'Invito, e lo trovate sul mio sito web, in inglese. Questo è accaduto quando stavo preparando il titolo del corso per l'Italia, che c'è stato a giugno, e tutto questo è avvenuto e non me l'aspettavo. Ci sono due video che sono sul sito, uno riguarda l'invito e un altro riguarda il dolore. E come dire, dolore e pace. E noi saremo insieme in questo momento e ci prepariamo per delle calibrazioni che faremo insieme. E ma voglio che potete appunto farvi vedere questa immagine. E questa immagine ha attirato subito la mia curiosità. Non conoscevo nulla a proposito degli enyon. Poi andiamo alla prossima slide. E ora proviamo alla seguente immagine. E questa è, come vedete, un'immagine del retico di calibrazione universale vista dall'alto. E questa immagine degli enyon me la ricordava. E poi, dopo questo, ho iniziato ad esplorare cosa fossero gli enyon. E andiamo alla prossima slide. Quello che posso dire a proposito del mio lavoro, e tutto il mio lavoro, è che è ispirato dalla scienza, ma è sostenuto dall'immaginazione, innovazione ed evoluzione umana. E di solito le persone dicono che quello che dico è sostenuto dalla scienza, invece noi qui diciamo che quello che noi facciamo è sostenuto dall'immaginazione, innovazione ed evoluzione umana. Andiamo alla prossima slide. Andiamo alla prossima slide. E andiamo a vedere alcune informazioni che riguardano la dinamica, le dinamiche che coinvolgono gli enyon. Queste, gli enyon, sono delle quasi particelle, sono state scoperte nel 2020 ed esistono nelle due dimensioni. Quando noi lavoriamo con gli enyon, noi dobbiamo contemplarli, guardarli a livello multidimensionale, non lineare. E quindi ecco che andiamo a lavorare l'invito a contemplare la dinamica degli enyon, e poi per vedere quanto sia profondo a livello del nostro essere multidimensionale. E questo ci permette di entrare in una comprensione più profonda, insieme alla coscienza collettiva e del campo di tutta la vita. Andiamo alla prossima slide. Perché il nome enyon? Enyon in inglese significa qualsiasi, in italiano sono stati tradotti qualunquoni, perché loro possono assumere qualsiasi caratteristica quando interagiscono gli uni con gli altri. E chi ha lavorato con me sa che io canalizzo un'entità luminosa femminile di nome Anja, e il nome Anja, enyon, è qualcosa di molto simile. E man mano che noi apriamo il cuore e evolviamo e cresciamo in questo, nell'amore infinito, ecco che è anche importante che la nostra mente comprenda sempre di più quello che stiamo vivendo. E chi mi conosce sa che il mio cuore è forte, vivo, e questo è il motivo per cui io sono qui. Ma io amo anche la mia mente, e mi piace comprendere la realtà che viviamo qui e adesso. Andiamo alla prossima slide. Queste particelle sono capaci di comunicare tramite un processo chiamato intreccio, intrecciarti. E come fanno a far questo? Lo fanno facendo, qualche momento, muovendosi l'una intorno all'altra, in movimenti circolari, sia in senso orario che in senso anti-orario. E usano una sequenza specifica. E ho menzionato questo anche nel video. E questo ha attivato molto la mia attenzione e il mio interesse, perché tutto il mio lavoro proprio si basa su movimenti e sequenze specifiche. Immaginate, ad esempio, le sequenze che ci sono nel tai chi, o immaginate anche le sequenze che ci sono nelle posizioni yoga. Non dobbiamo farlo sempre, ma quando parliamo con l'energia, e usiamo il linguaggio dell'energia in modo sequenziale, è molto potente. E voglio suggerirvi che noi usiamo questa dinamica dell'intreccio proprio per interagire con il nostro mondo interiore, con la nostra interiorità, tutta la parte multidimensionale di noi. E ho avuto delle esperienze fenomenali, perché, lavorando con questa dinamica degli Enyon, sono riuscita a fare finalmente delle cose che avevo voluto fare da anni. E ho sempre insegnato che è importante indirizzare la nostra energia e proprio seguire, creare, proprio per creare la nostra vita, la nostra scelta. E queste nuove abitudini che creiamo, vanno per la co-creazione proprio della nostra vita, di nostra scelta. E ci dà un altro modo di comprendere noi stessi, e poter quindi poi essere capaci di andare avanti nella nostra vita. E mi sono davvero emozionata nel poter demistificare il più possibile questo e usarlo nella nostra vita quotidiana. Andiamo alla prossima slide. E questo è importante, questo concetto. Ecco, andiamo a attivare l'aspettativa di essere in grado di comunicare una sequenza che agisce anche come un filtro, così che noi possiamo condividere gli aspetti più umani e anche evoluti di chi noi siamo. Questo significa essere un essere umano, parte, membro della famiglia dell'umanità. Ma noi anche interagiamo con noi stessi, personalmente. E penso che queste frequenze credo proprio che ci possano aiutare a aumentare la nostra abilità di vivere il potenziamento pieno di pace, proprio come parte della grande evoluzione. E proprio adesso noi siamo nella grande evoluzione della coscienza umana, proprio adesso, in questo momento. Certamente ci vorranno generazioni affinché possiamo vedere dei grandi cambiamenti, ma noi siamo sulla via e stiamo procedendo, stiamo andando avanti. E la spinta divina che ho sia per me stessa, ma anche per la famiglia dell'umanità, per imparare a comunicare in un modo più saggio. E quindi questo significa portare nuove idee per cocreare insieme in questo mondo. E proprio grazie all'intenzione e all'aspettativa che noi muoviamo, Francesca commenta all'interno della chat, che proprio l'etico di calibrazione universale ci aiuta in questo processo evolutivo. E mentre faremo l'attivazione, questo filtro positivo viene posizionato e agirà in maniera più forte. E qualcuno scrive nella chat a posto dell'attenzione. Sì, Peggy sottolinea come è importante portare l'attenzione, dare attenzione. E voglio essere più chiara possibile, anche sul perché poi ho fatto tutto questo lavoro, in tutti questi anni. Nella mia esperienza dell'amore senza inizio e senza fine, che ho fatto tanti anni fa, ho visto che noi siamo capaci di generare questo sempre di più. Ecco, io dico sempre, non voglio insegnare, dire alle persone come pensare, cosa pensare, ma posso dire alle persone come possiamo risuonare in maniera diversa il nostro cuore e la nostra mente. Andiamo alla prossima slide. Ecco alcune domande sugli Enion. E' possibile che gli Enion ci possano aiutare a fare un salto quantico nella nostra abilità di conoscere come la coscienza evolva attraverso le molte espressioni della vita e come comunicare energeticamente? Un'altra domanda, quanto possiamo essere connessi con le nostre abilità per ricevere informazioni e poi trasformare queste informazioni in conoscenza utilizzabile nella vita quotidiana? E anche in quello che noi vediamo essere le divisioni che sono presenti nel mondo oggi. Io penso che compendo utilizzare questa dinamica degli Enion ci aiuterà a esprimerci sempre di più e per ricordarci di esprimerci come parte della famiglia dell'umanità, unici e uniti. Andiamo alla prossima slide. Abbiamo quasi finito con le slide. Volevo solo mostrare questa immagine per far sì che possiate vedere la bellezza e contemplare la bellezza della dinamica degli Enion e quello che possa questo significare per voi. Sì, 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 Clemens, gli Enions sono particelle della coscienza. E c'è tanto su questo, perché quando ho iniziato a guardare la dinamica degli Enions, io mi sono sentito a casa, perché ho lavorato con questa dinamica tutta la vita. È interessante. Abbiamo avuto conferma della loro esistenza, sono nel 2020. È chiamato il terzo regno delle particelle. E immediatamente mi sono sentita a mio agio, con questa energia, proprio perché è possibile che sia utile e che possa essere utilizzata per noi. Grazie, Jessica. Posso vedere la vostra chat. Grazie per tutti i vostri commenti. Andiamo al prossimo slide. Voi siete co-creatori, siete pazzi quanto basta. E abbiamo già iniziato con la prima attivazione. Ecco, troverete tutto a causa di questa attivazione. È sul sito web, se vi parla, è tutto sul sito. E ci sono tante informazioni a professore degli Enion, proprio in questa prima attivazione della maestria. Chi ha studiato con me sa che di solito la prima parte del corso, il primo appuntamento con quest'assi corso nuovo, è sempre quello che ha più sfide, quello che ci dà più da fare. E questi sono gli strumenti, proprio per far sì che voi possiate generare questa energia, questa dinamica. E appena sono stata diventata cosciente di questa energia, ecco che abbiamo creato lo strumento. E la dinamica dell'intreccio, per come accade, per come avviene, ci permette di fare un salto quantico dentro di noi, per noi. Questo vale per ognuno di voi, ognuno di noi, perché si uniscono, si intrecciano diversi aspetti della propria vita, per raggiungere uno stato di totalità. E con una parola nuova, si può dire con tutto il cuore. E si può usare questa dinamica dell'intreccio, proprio per unire tutto quello che uno conosce, sia il proprio presente, il proprio passato e il proprio futuro. E questo aiuta proprio nel proprio senso di identità, andare avanti in questa percezione di sé. Io stesso ho fatto un grande salto per quanto riguarda la percezione della mia identità di me stessa. Rispondendo al commento di Adriano, nella chat, le sfide creano delle opportunità. Alcuni di noi possono essere così stati concentrati sul servizio, e questo poi può essere che si è perso un po' l'attenzione su noi stessi. C'è tanto da dire su questo, ma io sento che proprio adesso sto sviluppando un nuovo livello di identità, ed è questo incredibile. E quindi potete unirvi a me, io non nascondo nulla, facciamolo insieme. Ecco, sono tante storie da raccontarvi, ma ecco, sono cresciute in questo, quindi voglio essere concentrata su alcune storie più precise. Andiamo alla prossima slide. Fate un respiro tutti quanti, qual è il nostro prossimo passo? Andiamo alla prossima slide. E voglio dire queste cose, prima di andare poi a sperimentare alcuni disegni energetici dell'attivazione. La prossima serie di attivazione, di attivazione della maestria, si chiama resilienza innovativa, il vantaggio dato dagli Enions. La resilienza è sviluppata con il supporto di nostre tendenze, dei nostri valori, quello che vogliamo fare. E la resilienza ha appoggio, da appoggiare i nostri obiettivi, a come ci regoliamo per raggiungere i nostri obiettivi. La resilienza ha anche a che fare con la compassione per se stessi. E questo è importante che venga sviluppato, per essere più forte. Sì, ma in mano che evolviamo e ci esprimiamo sempre di più. La resilienza ha tanti aspetti, ma dare supporto anche alle nostre relazioni, alle comunità che noi creiamo. E la resilienza dà supporto anche al nostro benessere, la soddisfazione, la felicità, il benessere. E la resilienza ci dà forza. C'è tanto da dire a proposito della resilienza. E penso sia davvero importante capire cosa significa essere innovatori, in tutti i dettagli della nostra vita quotidiana. La resilienza è vera forza. La resilienza è vera forza. E dice che gli Enyons sono delle particelle, sono come gli eletroni, come i fotoni. E è stata provata la loro esistenza. Ecco, sono successe tante cose positive, ad esempio la mia attività fisica, la mia forza fisica aumentata. Ecco, non posso dire, non posso affermare nulla, però ci sono tante cose che possono essere scoperte a proposito dell'Enyon. Ecco una storia piccolina. E tutto il tempo che ho viaggiato, per tanti anni, nel mondo, persone, uomini e donne, mi hanno sempre detto grazie per aver mostrato come la dolcezza, la morbidezza può essere così forte. E io onoro la forza che è in ognuno di voi. Andiamo alla prossima slide. Questa è la nuova attivazione della maestria, inizierà a ottobre, avete il link in descrizione e sul sito web. Per chi è nuovo a questo tipo di cose, ecco, voi avete documenti, manuali, powerpoint, immagini, siete capaci di fare l'attivazione per voi stessi, ma anche farla agli altri e insegnarla, per essere in servizio agli altri. Se questo risuona con voi. Andiamo alla prossima slide. E voglio ricordarvi di nuovo, faremo degli intrecci. E siamo pronti a fare questa esperienza di attivazione insieme, in questo momento presente o in altro momento presente. E ricordate, andrete a rispondere in accordo alla vostra saggezza interiore. State dicendo sì a voi stessi. Ok, la prossima slide. Io parlo con tante immagini che vanno al di là delle parole, intrecciamo. E possiamo fermare le slide in questo momento. Allora, e Olga, grazie di essere qui con noi, usando la tua vista interiore, non la vista esteriore. Ecco, io ti sto abbracciando, ci stiamo abbracciando. Olga ha scritto in chat che non vede, cieca. E Olga, grazie ancora di essere di nuovo qui, perché io credo che abbiamo la vista interiore che è più forte della vista esteriore. Questo è l'attributo della maestria che ho scelto per l'appuntamento di oggi. Questo è l'impegno. Questo è l'impegno, l'impegnarsi con voi stessi e con la ragione per la quale voi siete qui. Questa è fiducia, fede. Che la vostra fiducia in voi stessi possa essere più forte. E anche che possiate trovare l'appoggio che vi necessita, visto e non visto. E poi questo è potere. Che possiate essere a vostro agio, con il vostro stato, di essere in un potenziamento pieno di pace. E vi sento, vi sto sentendo, noi abbiamo raggiunto un certo livello energetico, come se fosse un tetto energetico. E intendo con questo tutto il pianeta. Ma, appunto, siamo pronti a rompere questo soffitto, questo limite, e poter avere ancora più aiuto. Per arrivare a un nuovo livello di conoscenza. Quindi andiamo. Questa attivazione durerà 10-15 minuti e poi completeremo. Avremo terminato. Fate un po' di stretching, muovete il corpo. Eccoci qui, iniziamo. Partecipando a questi tre disegni energetici dell'attivazione della maestria, risponderai ed accetterai quello che è in armonia con il tuo essere. Quindi insieme, da essere umano ad essere umano, nell'amore infinito, che è il fondamento del campo di tutta la vita, iniziamo. Porta l'attenzione al centro-basso. Il centro-basso è posizionato a 60 cm sotto i tuoi piedi. Questa è la tua presenza del corpo. Afferma, io sono qui. Respia profondamente, metti le tue mani sulle ginocchia. Sei invitato a sperimentare l'ottimismo che hai generato mentre diventi sempre più fiducioso delle tue abilità di co-creare una vita di tua scelta. Hai già coltivato i tuoi talenti, abilità e qualità naturali. E noi continueremo. E continuo a concentrarti sulla tua abilità di adattarti e co-creare una vita con più sorrisi. Per coloro che stanno vivendo una sfida importante in questo momento. Io sono al vostro fianco, vi comprendo. Quando ho trovato me in una sfida profonda, e ogni volta che sono stati in momenti difficili, alla fine del giorno, ho sempre visto i piccoli momenti di felicità che avevo vissuto. E questo mi ha permesso di fare il passo successivo. coloro che hanno superato le sfide, sono andati all'altro lato e stanno sorridendo molto di più. Stando insieme, continuiamo ad andare avanti e faremo dei salti quantici. Noi siamo qui per una ragione. Dai il benvenuto all'energia degli Enyon. Immagina, intuisci, senti, contempla e conosci la dinamica energetica degli Enyon che è presente in ogni cellula del tuo corpo, ogni strato del tuo DNA, ogni fibra di luce del tuo essere. Ora, mi afferma. E afferma. Immagina i disegni di luce ed energia a forma di infinito, che sono verticali, che si attivano tra il mio centro basso e le piante dei miei piedi. E poi afferma. Io respiro. Io intreccio. Io innovo. Io evolvo in accordo con la mia saggezza interiore. In questa attivazione, stai scegliendo di essere aperto a nuove frequenze di unità e impegno dentro di te. L'esistenza di queste quasi particelle, e la tua abilità di integrare le loro caratteristiche di comunicazione è un dono che dai a te stesso. Dai a te stesso il tempo di calibrati in accordo con la tua saggezza interiore. E andiamo al disegno numero due. Vi chiedo di concentrarvi sul centro alto, che è a 60 centimetri sopra la tua testa. E andiamo a concentrarci sulla presenza dell'anima, l'abilità di canalizzare di più chi tu sei. E insieme affermiamo. Io ricordo. Io sono. Metti le tue mani sul tuo centro del cuore e porti l'attenzione al tuo centro alto. Contempla l'impulso divino della tua presenza dell'anima. Di nuovo dai il benvenuto all'energia dell'anima. Immagina i segni di luce e l'energia a forma di infinito verticale attivati tra il centro alto e il centro del cuore. Ed insieme affermiamo. Io respiro, io intreccio, io innovo, io evolvo in accordo con la mia saggezza interiore. Questo è un momento straordinario in tutte le nostre vite. stiamo scegliendo di costruire le prossime fondamenta della nostra vita con le frequenze sempre in evoluzione della compassione e comprensione. Stiamo attivando una saggezza profonda. le frequenze del benessere e del supporto fluiscono liberamente dentro di noi. Personalmente, la tua abilità di essere a servizio per aiutare gli altri ad aiutare se stessi ti nutre. generi uno squisito scambio quantico di consapevolezza, fiducioso nella conoscenza che mentre tu evolvi espiri gli altri a fare lo stesso in accordo con la loro saggezza interiore. in questa consapevolezza l'equilibrio tra il dare e il ricevere viene profondamente ricalibrato personalmente e collettivamente. C'è abbastanza per tutti. E vediamo come siamo in grado di creare questo e aumentare questa comprensione di come creare la prosperità di tutto, di cibo, di riparo. e facciamo un respiro. Ecco l'ultimo disegno, il numero tre. Parliamo alla coscienza del nostro, del nucleo del nostro essere che va dal centro alto al centro basso. Mettete le mani di fronte a voi con le mani aperte in questa posizione un palmo verso l'altro. las palmas al frente di ti con le mani separadas così. Immagina disegni di luce ed energia a forma di infinito orizzontali attivati tra le tue mani. incoraggia il tuo intero essere a rispondere. E insieme affermiamo io respiro, io intreccio, io innovo, io evolvo in accordo con la mia saggezza interiore. e potete sia tenere le mani nel modo in cui le avete adesso sia appoggiarle sul vostro cuore. Le vostre frequenze della forza multidimensionale aumentano attraverso la calibrazione della totalità dentro di voi. Questa forza contribuisce alla tua abilità di essere consapevole delle sfide in questo mondo e di cocreare nuove opportunità di potenziamento pieno di pace. Confini multidimensionali sono appropriati mentre diventiamo consapevoli che la famiglia dell'umanità si sta preparando per un salto quantico. sto avendo delle lacrime di gioia prevalentemente. Datemi un momento. L'invito è a trasformare il caos della divisione in coerenza che permette l'unicità. Continua ad esprimere le frequenze dell'amore infinito l'amore che non ha né inizio né fine quotidianamente. Quest'amore pieno di saggezza è potente elettrico e trasformativo. Quest'amore sei tu. Ed ecco un semplice e gentile promemoria. Ricorda nutri prima te stesso e poi nutri gli altri. dai il benvenuto all'energia degli Enyons. Io onoro la Fenice dentro ognuno di voi. E come sempre, Anya dice tutto è bene. tutto sta bene. Grazie. 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 non vedo l'ora di lavorare con voi mentre continuiamo con queste attivazioni. con queste attivazioni. Ed è importante dare queste informazioni che queste quasi particelle esistono nel campo unificato di cui siamo parte. Tutti noi siamo parte. Sono in una seconda dimensione, ma non pensate questo in modo lineare. che ci permettono di avere radici più profonde, comprendere di cosa siamo capaci e di perché noi siamo qui. E così anche noi ci innalziamo ma le nostre frequenze diventano ancora più forti. E quello che mi preme portare al mondo è il vivere energeticamente consapevoli. e se questo vi interessa, vi piace, ecco, possiamo essere ancora fianco a fianco incoraggiandoci ad essere più forti e brillanti che possiamo. Io ho tanta speranza e grazie anche a queste energie, queste dinamiche, energie che possiamo sviluppare, noi siamo in una situazione positiva, ma un passo alla volta. E vedi i vostri nomi, vedo i nomi nella chat e grazie tante per essere qui oggi insieme a noi. Un nuovo, un livello totalmente nuovo, una consapevolezza totalmente nuova. Ecco la mia mano da mamma, scusatemi. Ok, manteniamola. Non c'è nulla che ci possa fermare. Grazie per il vostro cuore prezioso, puro. Sto guardando la chat, leggo quello che avete scritto e l'energia che state generando. è così emozionante. Quando stavo pensando di aver finito, ecco che si è aperto un mondo totalmente nuovo. E la rigenerazione che è venuta è assolutamente vera. è assolutamente reale. Allora, alla prossima volta. Ci amo immensamente. Immensamente. grazie di essere stati qui con noi. Potete ripetere l'attivazione se vi è piaciuta la troverete sempre su YouTube. Probabilmente caricherò una versione più pulita perché ho visto che alcune volte saltava lo schermo però l'audio è andato bene. se volete partecipare con noi al prossimo ciclo inizia al 14 ottobre sarà tradotto tutto in diretta ma potete seguire anche con la registrazione potete andare nel link che vedete sotto. Se non trovate il link o avete difficoltà potete scrivermi contattarmi e vi do tutte le informazioni. Con Peggy continueremo tutto quest'anno e continueremo sempre sono tanti anni che traduciamo tutto il suo lavoro. Posso dire che è una delle insegnanti delle maestre come diceva Crayon davvero più profonde che abbiamo sul pianeta in questo momento capace di trasmettere grazie alla sua vita piena di esperienza di consapevolezza e di energia una forza che oggi può fare davvero la differenza per ognuno di noi. Chi risuona con questo lavoro chi ha sentito risonanza con questa attivazione ecco potete c'è tanto da esplorare. Per qualsiasi informazione mi contattate e sarò felice di darvi ogni tipo di approfondimento. Alla prossima e grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti